Le città del Tartufo sono ormai vicine al momento della loro esperienza Expo 2015 a Milano. Forti del loro bagaglio culturale, ricche delle loro tradizioni e specificità, unite dal filo conduttore rappresentato dal pregiato fungo, sono pronte a farsi conoscere dal pubblico internazionale dell'esposizione universale. Noi come associazione ci stiamo molto investendo e molto credendo su questo evento Expo, tanto è vero che stiamo cercando di fare il possibile per dare visibilità a tutti i soci dell'associazione. Saremo presenti ad Expo dal 22 di settembre fino al 5 di ottobre, con due settimane consecutive e con eventi che riguarderanno tutti i soci. L'Associazione Nazionale Città del Tartufo sarà Cascina Triulsa. Mentre la prima settimana sarà più istituzionale e informativa, durante la seconda ci sarà spazio per il mercato del tartufo e per tanti eventi e degustazioni alla scoperta dei territori. Lunedì 28 settembre in particolare è giornata evento per l'associazione con la presentazione del calendario nazionale del tartufo, arricchita anche da momenti di approfondimento ed esibizioni folcloristiche. Il nostro compito è quello di farci conoscere e far conoscere le peculiarità di tutti i soci perché la vetrina di Expo può garantire visibilità internazionale a tutti i nostri associati che ricordo sono circa 50 per la nostra associazione che è un'associazione legata a qualità di un prodotto di eccellenza come il tartufo e il tartufo italiano. Cosa c'è dietro il tartufo che il mondo non conosce e che può conoscere attraverso questa esperienza? Beh, dietro al tartufo c'è soprattutto cultura, cultura in tutti i sensi, cultura della tavola, cultura della conoscenza della ricerca del tartufo, cultura come tradizione, c'è un po' tutto, nella parola tartufo c'è un po' tutto questo e questo è quello che vorremmo far sapere e far conoscere a chi ci visiterà in queste due settimane di Expo. Una cultura che volete portare state tentando di portare all'attenzione dell'UNESCO da anni? Beh, ormai da due anni circa stiamo lavorando a questo dossier di candidatura per rendere il tartufo come bene immateriale UNESCO. Sono certo, sono sicuro che entro quest'anno, entro il 2015, riusciremo a completare la documentazione occorrente a rendere ufficiale la candidatura, poi starà al Parlamento italiano, al Governo italiano, al Ministero italiano a renderla ufficiale come unica candidata, mi auguro, per il 2016.